del mio canale, siamo qui al secondo episodio di Wolfenstein 2 The New Colossi dopo l'introduzione di essere scappati con la sede di rotelle adesso devo liberarmi da questa situazione qua hanno ucciso qualcuno dei miei compagni però ho recuperato l'armatura del compagno che adesso andrò a mettere vediamo, in questo momento la sto mettendo, vediamo cosa succede vedo che si è giunta con me anche la figlia della cattiva qua la bionda il mio compagno ha perso anche un braccio, vedete prena prena come liberiamo il sottomarino? quella porta conduce ai controlli dei bracci elettromagnetici da lì potete disattivarli e liberare il sottomarino quindi la puoi aprire? apriamo queste porte e vediamo cosa succede ok, devo trovare i controlli prendiamo anche questa, doppia arma così ok no, qui sembra normale va dove sono questi blocchi che devo sbloccare? raggiungi i controlli degli obiettivi uno è questo ok, ho preso un po' di armi qua aspetta che prendo un po' di armi ok, devo andare di qua allora usa l'attacco con schianto d'armatura potenziata per rompere le gratte sul pavimento e distruggere le casse premix per saltare e mentre atterri ok dove è che devo farlo questo? qua salto e schiaccio no, è qua ok ok, siamo andati sotto vediamo un po' dove devo andare ok, ho guadagnato con trofeo il raccogliere il testimone andiamo avanti qui trovo un attrezzo per aprire il portello troviamo un attrezzo ok, un ascia un ascia va bene si possono fare un sacco di cose con un ascia è un nazista non lo vogliamo il tutorial ok andiamo avanti qua no andiamo di qua allora, uccisione istantanea il premier R3 è vicino adesso questo lo sistemiamo con l'ascia wow abbastanza violento che cos'era? armi prendiamo a scala carola carola mi senti? prima di andartene proteggi la nostra gente mentre mi occupo di questa cosa che cosa c'è? pistola ci serve? seleziona R1 per selezionare le armi no, teniamo il fucile per adesso sono al massimo andiamo di qua segnale rilevato 14 e 24 13 sono i miei obiettivi sicuramente uno è quello come ci hanno insegnato all'addestramento bisogna far fuori prima i comandanti lo faccio fuori pure lo faccio fuori subito ok prendiamo una scheda codice enigma forse ho fatto troppo casino spariamo allora affanculo dov'è? dov'è? ok fuori morite dove che sono? ok che succede? sono di scarica st'arma dove sono andati? ok fuori anche questo c'è un altro qua questo lo facciamo a fettine no, mancato dov'è? ok c'è qualcun altro vediamo un po' odi sistema di sicurezza automatico missione mappa visualizziamo la mappa io sono la freccetta dove devo andare poi raggiungi i controlli ok forse qua sopra qua armi questa cos'è? niente ok andiamo avanti sarà di qua proseguiamo vediamo se c'è qualcuno devo andare qua dentro adesso che sono qua cosa devo fare? vedo quante armi ci sono bombe per lanciare una granata premere R1 dove devo lanciarla? forse devo uscire da qua questo cos'è? apri le porte dell'armeria premi ah devo far esplodare sto contenitore lanciamoli una bomba come si lancia la bomba? ok porca puttana ah yes si è scattato l'allarma soffri soffri ya ne asciamoli la bomba Quanti sono? Dov'è che è? L'ho visto uno di là Da sopra Uno sotto E muori C'è chi mi sta sparando Questo rumore Tu mi hai rotto le balle E anche te Non muoiono, eh Proviamo con una bomba, va Ok C'è qualcuno ancora da ammazzare Chi è? Dov'è che è sto numero 10? Eccolo qua, bastardo Capitano, muori Codice enigma Sto soffrendo Mi presti le tue ali Che ali? Dove devo andare? Porca puttana Ma dove escono fuori? Lì cos'è quel pulsante? No, non devo schiacciare niente Quindi devo scendere di qua Ok Andiamo avanti di qua Vediamo dove ci siamo Dove sono? Ok Vediamoci il filmato Guardatevi a qualcosa Se volete salvarmi la pelle Beh, abbiamo liberato Sommersibili Giralo sul fianco Bombate Sul fianco Ok Fai così Su e giù Ce l'ha fatto Ok, presto Dobbiamo immercirci subito Wow, che armatura Adesso Torna all'hangar Ho rilasciato il martello di Eva E sto tornando dai nostri Oddio chiedertelo Ma resterai da queste parti Così potrò tenere le tue ali Ancora un po' Guardate, qui sono già arrivato Se vado di là Ah, di qua non si può passare Quindi devo andare di qua Beh, andiamo di qua Vediamo cosa succede Pistola Ok Va bene Dove devo andare Cos'è sto rumore Oh cacchio Cos'è quello affare lì? Dove è andato? Oh, questo mi fa fuori Porca puttana Dammi nella bomba Dove è andato? Questo è tosto Via Cos'è qua? Chi è che mi sta sparando? E vai giù Oh Cos'è questa? Lasergaywear Spara l'agilaser In grado di surriscaldare I sottili strati di metallo Fino a fonderli Tali superfici sono Contassegnati in giallo Ricarica il laser Dall'opposita stazione Premi Per abbandonare Premi re 1 Per stazione Un'altra arma Ok Quindi per caricare Forse qua si ricarica Qui Allora sono già al massimo Va bene Non devo ricaricarlo Devo sparare dove? Qua Ah ok Adesso lo ricarico Ok Wow Ce n'è un altro Wow Ah eh Lo ricarichiamo Devo ricaricare Quest'affare Da qualche parte Qui Qui Lo carichiamo qui Dai Dai su Spara Ci metto un po' A sparare Però quando spara Poi Cos'è quello a fare Di una bomba Cerchiamo ancora Va Oh ce ne sono più Ah no Ce n'è ancora uno No due E' uscito fuori Questo ma Porca Ok andiamo avanti Dove devo andare? Qui c'è una porta Magari si scioglie Poi Vediamo Wow Se scioglie tutto Si Qua Devo andare di qua Apri la porta Del Hausmerzer Dov'è? E dov'è? Ok andiamo di qua Oh ce n'è un altro gigante Il fondo subito Ma c'è solo ancora Cavolo vuota No no Riparo Riparo Dov'è? Dov'è? Muori muori Un altro mech è arrivato Un altro mech è arrivato Un di quelli grossi bombe Non ne ho più Oh cacchio La testa la testa Via 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 Niente facciamo il giro Dove sto finito? Eh? Chi è qui? Sono senza armi? Mi è rimasta la pistola Non muore mica quello Via Dov'è andato? E muori Wow Sei incazzato Di brutto anche Via 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 Oh non muore Non muore Non muore Vai giù Oh Andiamo al codice enigma Guardi Andiamo a prendere l'arma Magari di questo Dove cavolo è l'arma? Ok Dove devo andare 51 metri Ricarichiamoci con un po' di armi E' quello che l'ha ammazzato Ma non l'ho ammazzato io questo Ok E prendiamo l'ascensore Credo Sì Ok Questo pezzo l'abbiamo fatto Vediamo dove andiamo Porca si Mi stanno già aspettando Frigo tutti Un altro mech Finito le armi Via Cacchio No Ok L'ho abbattuto Vediamo un po' di Ok andiamo avanti Dove devo andare Obiettivo Obiettivo torno all'hangar 47 metri di qua Aspetta Ah scarico Ok andiamo avanti Chi c'è? Ah sono tornato dai miei compagni d'avventura Allora Sciolti Li ho sciolti Va bene così Adesso Bene ce ne andiamo Fine C'è posto anche per me C'è posto anche per me È inzata quella cicciottella lì Non so se ci entro pure io Presto Dobbiamo andare Adesso entro Ok Ce l'abbiamo fatta Un secondo Non so se ci entro Andiamo Ma è da Fa male Non agitarti Vuoi qualcosa per il No 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 Vai Vai pure avanti Ascoltate Charoline aveva un piano Sì La liberazione degli Stati Uniti ed America Charoline voleva liberarli E usarli come base per salvare il resto del pianeta Che cazzo di mondo è quello che faremo Per Caroline Porca puttana Max Sta un po' fermo Perché c'è una nazista a bordo? Perché se non fosse stato per questa nazista Saremmo tutti morti Siamo in debito Non possiamo ucciderla A meno che non ci freghi Vuoi forse fregarci? No signore E non sono una nazista Non più Bene Ora Caroline Aveva un contatto radio Con una cellula Di resistenza americana A New York L'unico modo Di procedere Con il suo piano È allearci con questi gruppi Di Resistenza americani In modo da Organizzare una rivoluzione Bombe di profondità E adesso si può sapere Che cazzo sta succedendo? Brecce nello scafo Ci sono diverse brecce Trau è anche il di merda Come cazzo fa a sapere dove siamo? Forza parla pure Qualcuno all'interno del sottomarino Trasmette la vostra posizione Che bella notizia del cazzo L'Ausmanzer ha ricevuto diversi messaggi Da qualcuno del sottomarino Così vi abbiamo trovato Che cazzo? Sezione F Che cosa? Ok Ok Diamo un'occhiata Ecco qui Sezione F Non esiste la sezione F Le mappe sono imprecise Abbiamo cercato Non c'è una porta E se ci fosse Se qualcuno fosse nascosto lì dentro A trasmettere quel segnale Date un'occhiata Io devo stendermi un momento Kinderlake Vieni Deve essere qui Sposta gli armadietti Incredibile Cosa vedi? È saldata dall'altra parte Ingole Guarda Questo è per te Fergus mi ha dato lo spunto Per migliorarla Ci ho lavorato un po' su Grazie Ne sentivo la mancanza Torno ad aprire Quando avrai finito Roccia Ok Allora i laser Fondano anche Fondiamo Non vedo bene cosa devo fare Devo trovare Devi trovare il trasmettitore E farlo tacere O le bombe di profondità Sporceranno lo scafodo Ok Dovevo trovare il trasmettitore Per evitare Che ci rientracci No Carichiamo Il nostro bel fucilone qua Ok Il più è aperto Scendiamo Abbiamo commesso un errore Sulla piantina La sezione F Sembra solo un piccolo locale Lavanderia L'abbiamo cercata Quando abbiamo ispezionato Per la prima volta Il sottomarino Ma non abbiamo trovato L'entrata E con tutte le cose Che avevamo da fare Abbiamo lasciato perdere Ora ho ricontrollato La piantina E c'è un riferimento A un documento Completamente diverso La carta tecnica Cos'è questo? Tiago è soltanto Un muller Ah Saranno Dei collezionabili Ma quelli sono i cattivi? Quello ci fanno qua dentro? Scusa Allora Lanciare Le asce Adesso la lancio Questo lo Abbiamo in due Ok Che mira del cazzo Ma vaffanculo Ok Sistemato Dov'è? 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 Mi sta facendo fuori Porca Puttacchia E dai Devo essere silenzioso Ma mi ha sgamato subito C'è un'altra ascia Vediamo se mi può servire Qui carichiamo il nostro Langerbrack Come cavolo si chiama Dove devo andare? No Di qua no? Di cavolo devo andare E qui no E qui no Ecco No Ho messo una bomba Vabbè Funzionate con la bomba Deve Devo liberare Specie di ascensore Qua La sezione F Corre lungo L'intero scappo Del sottomarino E visto che ci troviamo Sul sottomarino Più grande del mondo È enorme Deve servire in parte Come serbatoio Di zavorra principale Perché ha un volume Immenso Fai attenzione William Non c'è modo Di sapere Quanti nazisti Si nascondano lì dentro Cioè Praticamente abbiamo I nazisti Dentro Nella sottomarino Che è successo? Oh cavolo Come sono finito? Eh Come cavolo Che sono girato qua Però che devo andare Localizza la trasmissione Di qua no Sarà di qua Scendiamo di qua Qui c'è dell'acqua Non è che rimango Fulgorato Scendiamo qua Il segnale rilevato Dov'è? Eh ma gli altri Poi mi vedono Vabbè io ammazzo questo Intanto 5 4 3 2 Via le gambe Via la testa Adesso l'altro Dov'è? 5 6 5 7 Dov'è che è? Ahia Ma l'ha visto? Ha dato l'allarme Porca vacca Vabbè Tanto Devo ammazzarlo In comunque modo Com'è andato questo? Vieni qua Eccolo là Che devo fermare Fa fermare l'allarme E non muore Ok E muori Dove sono gli altri? Allora La testa accettata William Ho controllato i dettagli Sul deposito Della sezione F Stando alla carta tecnica Lì dentro ci sono decine Di testate nucleari Spero solo che i nazisti Non le abbiano Un'altra Sono giusto di qua Che succede? Caroline Non credo che ce la farò Forse mi resta qualche settimana Se me lo permetterai Il segnale è rilevato 30 metri Di qua Di là Proviamo di qua E qua no Andiamo di là Ok Dove sono? Sono lì sopra Sono Come faccio ad andare di là Senza farmi nuove Adesso mi scoprono sicuro Vediamo un po' Eh vaffanculo Sono rimasto incastrato Nella porta Non farsi scoprire È proprio una bella Vediamo le armi qua La sala radio nazista Devo trovare il modo Di entrare Eh faccio saltare Allora Dovrebbe essere questo Ok Basta Comandante Sciolto Il codice enigma Ho trovato Adesso cosa devo fare? Anche devo far saltare in aria tutto? Ok ho trovato Ho guadagnato anche un trofeo Puoi tornare in aria Da che parte devo andare? Lomba Via Pessima mira Cosa c'è quello là? Spara con quelle specie di Cavolo Dov'è che è? Non riesco a vederlo E muori Mi stanno ammazzando Mi stanno ammazzando Poi non finiscono più Ah guarda dove era Ah guarda dove era Ma che bastardo Non riesco a ammazzarlo Sei morto o no? Sì 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 Soprano tutti a quel laser lì Continuano a sparare Dov'è arrivare al laser No Dove sono finito Vediamo se esco a prendere le spalle Ah l'ho ammazzato Ma non erano le spalle di lì C'è anche il comandante là C'è lo schema quello Devevo uccidere quello lì Ecco Ammazza Ah Codice lingua recuperato Facciamo saltare anche quella Non so mai che Qualcuno mi spari Quando sono vicino Devo andare Qua ce l'ho già Quindi devo andare di qua Ok andiamo di qua Oh la missione dovrebbe Adesso Andiamo Ah ecco La porca vacca Devo andarmene ora Di qua Ok bussa All'abbandono a livello Ok adesso partirà il filmato sicuramente Ok ragazzi Per questo secondo episodio è tutto Io vi saluto Se il video vi è piaciuto Lasciate un like E iscrivetevi al mio canale E ci vediamo al prossimo episodio Ciao Sono tutti riuniti In un attimo La vita di una persona Tutto quello che sapeva Ciò che ha provato La merda che ha dovuto affrontare Tutto quanto svanito In un istante Come neve al sole Come se non fosse mai esistito Tesoro Prenditi il tempo che ti serve Ma appena puoi Vai da set nel suo laboratorio Così può darti un'occhiata Sono preoccupata per te E devo mangiare qualcosa Prima di svenire L'abbiamo L'abbiamo L'abbiamo